Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Lenny che la dedica all'amica Jane. Il film di cui vuole che parli è del 2010, è di Kim Woo-John, grandissimo regista di Bit of Sweet Life, il buono Mattel Cattivo, Tu Sister, uno dei migliori registi coreani degli ultimi anni. Il film è il tanto, ne avevo già parlato ma mai con una mini recensione, quindi I Saw the Devil, un film incredibile, un thriller tra i più belli usciti negli ultimi trent'anni e chiaramente da noi inedito, da noi purtroppo inedito, narra la storia appunto di questo ragazzo che vuole vendicarsi appunto della morte della propria ragazza che è stata uscita da questo serial killer durante l'inizio che vediamo questa notte tempestosa, lei che viene ammazzata e tutto il resto. Il nostro praticamente incomincia a inseguire questo serial killer, solo che il suo intento è quello di farlo soffrire sempre di più, sempre di più, quindi ogni volta che lo trova in realtà invece di farlo arrestare la polizia e tutto il resto lo, diciamo così, in un certo senso lo perseguita e decide di infliggergli tutti le sofferenze che lui ha inflitto alle proprie vittime. E di lì poi tutto quello che succederà con la polizia e tutto il resto, divastate sotto il punto di vista visivo, le scene sono di una violenza incredibile, allontaneranno un bel po' il pubblico perché sono veramente cattivissime. E poi c'è tutta la recitazione, i due protagonisti se la danno veramente alla stragrande, il giovane Lee Boon Kyung a fare Kim, il giovane, il bravo ragazzo che diventa tutto a un tratto praticamente peggiore quasi del serial killer che sta a seguire, è precisamente nella parte che deve essere grandissimo, bello, interessante, intelligente, con un modo proprio di scrittura totale. Ed è così interessante anche la controparte, diciamo la Nemesi, ovvero Choi Min-sik, mitico, mitico Choi Min-sik, attore clamoroso che qui appunto fa Kyung, il nostro serial killer, per un film che non si sposta minimamente da un certo tipo di canoni eppure li rinnova tutti attraverso una visione straordinaria di una fotografia di Lee Mogai che è veramente impressionante, con un montaggio totale, con un'idea appunto di quella che è una narrazione completamente scombinata, che non segue minimamente le linee guida diciamo di un certo tipo di cinema americano che vuole tutto, è squadrato tra bene e male qui, il bene e il male non esistono, esistono solo la vendetta da tutte le parti e la violenza da tutte le parti. Il fatto che il film sia truculento, violento, non adatto a tutti è una cosa che mi fa simpatia per un Kim Ji Won che non riesce a sbagliare un film, questo film poi è nato in un periodo in cui il nostro Kim Ji Won aveva una grandissima voglia, era un periodo fortissimo, come lo è adesso, specialmente per il cinema coreano, ed è riuscito a tirare fuori questo spettacolare lavoro da una sceneggiatura di Park Eun Jung che lavora alla stragrande proprio sui tempi, sulle meccaniche del male, sulle meccaniche del dolore, sulle meccaniche della perdita e quindi c'è questa idea appunto di questo dualismo tra un bene assolutamente che non è tale e un male che forse è davvero lo stesso che però si riesce a innegabilmente a insinuare attraverso una storia sì in un certo senso classica e banale ma che il nostro come ho detto sfonda The Flagras pur andando in un certo senso sul sicuro, questo sicuro lo fa diventare difficoltà in una storia di vendetta, sangue, sangue tanto a profusione e tanta vendetta anche psicologica per un film che racconta, racconta veramente il male di un'epoca, racconta il male inteso come tale, racconta la perdita, racconta la violenza della perdita, racconta quando ormai il tutto diventa in realtà non più divisibile esclusivamente fra bianco e nero e riesce a essere pieno di sfumature e tutto questo diventa in realtà la bellezza del film, un film di ritto, preciso, secco, ripeto talmente moderno che a 15 anni pare girato ieri l'altro, ripeto a quella forza incredibile sia quando si ferma sui corpi deflagrati, sia quando ha gli inseguimenti, sia quando ricerca una maturità anche nell'orrore in un certo senso di ciò che sta succedendo, in un certo senso simile a determinate cose di Bittersweet Life nella messa in scena ma completamente diverso perché si dilaccia a Melville diciamo come base qui, in realtà la base è il thriller quello sanguigno, per me la Sole Devil è un capolavoro che il fatto che non sia da noi è veramente una vergogna, uno dei film con thriller, serial killer, inseguimenti e tutto quello che uno può immaginare è più bello che siano mai usciti e chiaramente noi dobbiamo ancora, sta qui a chiedere una cazzo di edizione per il nostro mercato, comunque il link per il mercato internazionale che è quello che c'ho io qua sotto i teori inglesi è qua sotto, donate sul patro, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante il super grazie per donare direttamente su youtube, seguitemi su facebook e su instagram per sapere che cazzo faccia Giulia per l'Italia e ripeto, Kim Ji-Woon è uno dei migliori registi mai usciti negli ultimi trent'anni e questo clamoroso Eyes of the Devil è un capolavoro che chiaramente da noi non ci vogliono far vedere chissà perché, forse perché è troppo stronzo, pericoloso, cattivo o forse perché ormai troppo bello e noi ci siamo abituati alle sconcezze di merda con la gente che vuole e spara tutto dall'occhi ma che non capisce un cazzo, nemmeno mando ragione.